Ciao raga, 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 indovinate dove siamo? Beh, avete indovinato credo. Siamo tornati su Grandi, su Grandi? Vabbè, siamo tornati su Grandi. Oggi quello che dobbiamo fare è abbastanza semplice se troviamo subito. Ci basta trovare una cosa, se non lo vogliamo fare pure sul ragno. Adesso vi spiego. Pratica? Boh, non lo so. In pratica vi spiego cosa dobbiamo fare. Dobbiamo prendere lo spray a peperoncino della nonna e dovrebbe farlo svenire. Allora, sul ragno lo possiamo fare? Siamo fortunatissimi. Allora, non so se sul ragno però funziona. Non penso. Non pensi? No, non so col fucile. Mi sa col fucile, lo uccidi. Col fucile forse. Allora, speriamo. No. Adesso dove sarà quel cacchio? Ma va. Dai, e adesso dov'è? Se non è di solito lì il cacchio, dove cacchio è? Dai, prima, quando non mi serve mai, lo trovo sempre quel cacchio è inutile. Ma quindi Giuseppe ne sa un po' più di me. Perché io non voglio che ne sapevo sapere. Lo spray a peperoncino. Ok. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo. Perfetto. Ora ci dobbiamo solo un po' organizzare come fare. Andiamo a mettere... Ma quante volte si può usare lo spray? Giuseppe non ti vieni a andare che non ti sento. Eh, sì, apri la finestra così. Perfetto. Qui moriamo tutti di caldo. Con la mia schiena tutta rotta. Sì, raga, sono andato... Era andata alle giostre. Sono andata sul trampolino. E credo che ho preso uno strappo fortissimo. E si è rotto. Ora non può non correre. Ecco. Ecco. Allora. E proprio questo, mi prendo uno scanto, mi muovo. Quindi, raga, sto rischiando a soffrire, pure nella vita reale, in questo video. Non soffrire. Madonna mia. Allora... Ok, no, perché non l'hai preso? No, prima la devo mettere da là. Allora, era nel bunker per andare nel... Era per andare nel giardino. Nel bunker... Ah, sì, questo qui è sotto terra, giusto. Adesso, ma dov'è la... Oh! Ma dov'è? Che chi ho? Ok, adesso mi sa che... Adesso dov'è venire? Mi segue. Mi segue. Nasconditi. Sicuramente è sulle mie tracce, è sulle mie tracce. Dai che questo video, se... Non moriamo tutte le volte... Non mi si buggano gli oggetti in oro. E durerà poco. Oh, vabbè, lo poco un video dura un po' di meno. Non mi che tu così tanto... A trovo, cioè, mamma mia. Allora. Non viene. Sta venendo. Sì, sta venendo. Guarda, fa la finta, disgraziata, eh. Fa la finta, brutta, disgraziata. E se invece la tiro qua qua... Sta venendo. Ha messo le... Dai, ti ho visto. Ti ho sentito, hai messo le trappole. Ha messo la trappola. Sì, che hai messo la trappola. Adesso vai... Non doveva succedere. Non doveva succedere. No. Non doveva succedere. Non doveva succedere. Eh, no. Ok. Eccolo. Ecco. Pazzo. Eh! Eh! Non è! Ok. Non è, non è, non è. È cretina proprio questa nonna. Faccio così. Aspetto che viene e io vado giù a prendere quella cosa. Il ragnone. Ok. La non è magica. No, mi sa che è quel coso. È la picotta di L'Oleipo. È la picotta. È la picotta. Lo sapevo. Giubè... Eh, no, Giubberto. Com'era? Giampino, Giampino. Lo so, c'entri sempre tu. In ogni cosa c'entri sempre tu. Sempre tu. Mamma mia. Ah. Aspetta, vediamo se è trovata la tua. No, fratti, seguo. Non lo so che mi seguo. Dacci al fucile. Eh, no, che se ne frega di me. Infatti, però, non so. Allora. Tanto deve venire qui. Ho fatto il casino mondiale qua. Forse. Ok. Adesso. Proprio questo, saliamo. E qua ci dovrebbe essere... Andiamo all'erpia. Ok, sta a scendere la giacchia. Ok. E... Eccola qui. E adesso... L'apriamo. La tiriamo in qualche modo. E... Li bruciamo con gli occhietti che ha... Speriamo che non fa nessun allarme. No, usa qualcosa. Ok. E questo? Sì. Sprite. Ah, ah. Nonna schifosa, vieni qua. Vai, vieni qua. No, l'ha fatto il mondo. L'ha fatto. No, no. Ciao, ciao. Guardala. 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 No. 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 Non ci credo. Devi farlo da più lontano. Non ci credo. No. Devi farlo da più lontano. Ma mi mangio di nuovo le mani. No. Queste mani in questi giorni stanno proprio morendo. Eh, sì. Ah, mi mangio le mani. Mi mangio le mani. Perché? Brutta l'urita schifosa. Dai, ora le spano lì. Eh, grazie al cavolo. Che porca della misera. Ok, allora. Lo spray è qua. Fai cadere la chiave. Ah, non è qui. Io la sparò da qua. La sparò da qua. Sì. Schifosa, schifosa. Canta insieme a me. Schifosa, schifosa. Nonna, schifosa. Oh, oh, oh. Se ti alzi la gonna. E io muoio, non voglio vedere. Oh! Questo è successo? Grazie. Vedi se mi metto qui. Non mi vede. Non mi vede. Abbiamo accettato la povera nonna. Eh, ma no. Sempre. Ah, no, per sempre. Forse per due minuti. Sì, come sempre. Cosa non si vede ora? No. Ma allora ha ludito lei. Lei ha ludito come non so cosa. Ha ludito come il creeper. È il creeper. Adesso la nonna è diventato un creeper ora. Adesso, attenzione. Nuovo creeper. Aggiornamento di Minecraft. Ecco il nuovo creeper. Nuovo creeper. Nonna. Prima di veder. Vedi che la puoi sparare di nuovo. Guarda, mi avrebbe già visto. Sì. Allora. La puoi sparare di nuovo. Adesso, proviamo se sul ragno funziona. No. Non penso. Secondo me potrebbe funzionare. Allora. Se moriamo, vabbè, capiamo che... Vabbè, intanto la nostra missione diciamo che è compiuta. Quella di... Sì, infatti. Ora vorrei provare pure sul ragno. No, no, no. Non funziona sul corragno. Che schifo che sei ragno. No, sul ragno non funziona. Va bene, abbiamo capito che... Sì, infatti. Sulla nonna funziona. Ma... Che cacchio è questa cosa? Cosa ho visto, ho visto... Va bene, abbiamo capito che sulla nonna funziona abbastanza bene. Sì. E... È sul ragno però. No. Proviamo sul corvo. Sul corvo. Possiamo... E ora... Non fare lo spray... No. Non ci può prendere più. No, ok, non troviamo la carne. No, io sto su... Curioso col corvo. No, no, devo farlo. Il corvo. Il corvo è... Corvo, proprio. Dov'è lo spray? Forse posso prenderlo. Forse... Eccolo! Mamma mia! Eh... Che fortuna. Che magici che siamo. Oh, siamo magici. Ok, andiamo da corvo e... Aspetta. No, in caso mai viene la nonna, io... La spruzzo. La spruzzo. La spruzzo tutta, proprio. Oh, Dio mia. La spruzzo per me. No, no, dove se... E' passata di qui, mi sa... C'era una lampada caduta. Dovevo passare dal giardino, però. Allora. Dovrebbe essere qui il corvo. Sì. Allora. Ecco qui. Il corvo cosa tiene? E' c'è solo io qua. Eh, sì. Ma sono tutti immuni qua. Da mia nonna. Ma la mia nonna, sei la più fracca. Non so. Ah. E con lo spray che c'è, vada via. Sì, certo, certo. Ah. Va bene. Adesso, va bene. E... Finiamo il video con io che spruzzo... La nonna. La nonna, sì. Vabbè, ragazzi. Possiamo... Appena arrivo la nonna, finisco il video. Non mi arrendo. Io voglio spruzzarla di nuovo. Voglio farla soffrire questa disgraziata di una nonna. E dov'è? E non so, facciamo cadere di nuovo il suo... Il quadro delle... Della... Sì, c'è che è la sorella della nonna, qua. E' bocca. Sì, c'è? Ma che ne so, non tipo. Forse è la sorella della nonna, mamma mia. O è slenderina da grande. Sì, e come fa a sapere come farà? Nonna! Nonna, muori! Ah, una disgrazia. Se ne va! Mi prende con gli occhi chiusi. Vabbè, l'ho toccata. Va bene. Ha detto... Qualcosa mi è toccato. Anche se era una mossa faceva così. Poi arrivavo e vedeva... Vedevo che fa... Vabbè, ragazzi. E sull'animalino della nonna non funziona niente. Se ci sarebbe stato qualcosa altro di questo, avremmo fatto... Ecco. Quindi, vabbè, ragazzi. Fatti prendere dalla nonna. No. E vediamo alla fine come sarà. No. Sì. Vabbè, ragazzi. Per oggi è tutta... Ciao, Giuseppe non ha la maschera di passante. No! No, dai! Perché i tuoi video sono... I video con te sono sempre dei rompiscati? Guarda, guarda. Adesso ci muoio! Vai a quel paese. Non ha la mia maschera di passante. Ok. No. 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 Grazie a tutti